Il segreto. Puntata giovedì 3 agosto 2017. Cristobal riuscirà nel suo intento anticipazioni. La trama della puntata in onda giovedì, ci racconta come Nestor, si fingerà cugino di Camila, ed imbroglia Ernando, cercando di carpirgli informazioni sui suoi affari e sulla sua vita con la Val d'Esalce. Quindi, l'uomo ricatta Camila per obbligarla a restituirgli la figlia. Ernando e Mattias scendono nel sottosuolo per controllare lo stato delle canalizzazioni delle acque, e scoprono che il problema è più grave di quello che pensavano. Camila cerca di convincere Nicholas a far trascorrere a Rosario un po' di tempo con la bambina. Prima parte le insistenze di Cristobal, momenti piuttosto complicati in casa a Castaneda. Mentre Mattias riceve una misteriosa lettera da parte della sua ex, Prado, Alfonso è stato inspiegabilmente restato per ordine di Cristobal. Quest'ultimo cercherà di sfruttare ogni occasione per trattenere Emilia la villa, chiedendole di restare lì anche di notte, ma la donna continuerà a respingerlo. Col tempo lui potrebbe cominciare a capire che un modo per ottenere il suo scopo potrebbe essere quello di farle qualche concessione. Nel frattempo i Santa Cruz organizzano una festa per Carmelo e Mencia, ormai prossimi alle nozze. Seconda parte, il ricatto di Nestor. Nestor è ricomparso misteriosamente a Pioente e Biecco con evidenti doppi fini e ricatta Camila, se non gli riconsegnerà immediatamente sua figlia Belen, Hernando saprà tutto sul suo discutibile passato. In realtà, Camila si era allontanata da Cuba portando con sé la bambina proprio per sfuggire a lui, un malavitoso dalle dubbie frequentazioni. Le trame della telenovela e il segreto raccontano comunque che la Val de Salce pensa di riuscire a sbarazzarsi dell'uomo ricorrendo all'arma della seduzione. Sarà davvero così? Ultima parte. Una brutta scoperta. In questa puntata, trasmessa come sempre su Canale 5 a partire dalle 18.45, vedrete che Hernando e Mattia si recano nelle gallerie sotterranee che conducono le segrete di Los Manantiales per controllare lo stato delle canalizzazioni delle acque. Qui i due faranno una terrificante scoperta. Inoltre, essi rischieranno di rimanere sepolti vivi. Si sentirà all'improvviso un forte boato, e la galleria rischierà di crollare addosso a due malcapitati. Una nuova tragedia sconvolgerà Pianto e Bieco.